Tatiana D'Uverzo nell'organico del quartetto donne che in questa rassegna ridata ha realizzato una buona performance in chiave olimpica. Esatto, una bellissima posizione abbiamo raggiunto con l'ottavo posto al mondiale, abbiamo coronato un piccolo grande sogno perché comunque il costetto azzurro aveva difficoltà negli anni scorsi a raggiungere un buon piazzamento sia nelle prove di coppa che al mondiale e adesso un po' alla volta il nostro gruppo formato da sei ragazze ci sta credendo, con i tecnici e lo staff e stiamo scalando questa montagna alla ricerca di una possibile convocazione olimpica. Quindi nessun ramarico per l'ottavo posto, anzi? Assolutamente, qui è una squadra, una squadra che ci sta credendo, nessun ramarico e solamente una forte fiducia per raggiungere un bellissimo risultato e un grandissimo sogno qual è il piede. Datiara, il prossimo appuntamento immediato, anche con la maglia azzurra, ce lo puoi svelare? Ma per adesso c'è solamente la strada con la mia squadra e il prossimo appuntamento in maglia azzurra, non si sa, si spera a Baku oppure chissà, io sogno il mondiale, sogno l'iride e sono ancora qui come una bambina entusiasta per raggiungere grandi sogni e grandi grazie Tatiana in busca al lupo